Katia Ricciarelli a Soleil. Questa casa è diventata un porcile. Che brutta figura che stiamo facendo in special modo con le persone che stanno entrando in casa. Ci sono cicche ovunque. Nel lavello in giardino nei lavandini. Addirittura ci sono le cicche fino all'ingresso della mia stanza fuori. Bisognerebbe avere un po' più di accortezza. Ci hanno diminuito il budget perché siamo sporchi. Ora abbiamo solo 220 euro anziché 280 euro come faremo. La più ribella è Sofì. Vedi è stata richiamata ancora dal grande fratello perché non indossava il microfono o andrebbe redarguita. Soleil risponde che è inutile parlarne se poi non seguono i fatti. Nessuno viene richiamato quando sporca. Ora abbiamo ricevuto il comunicato dal grande fratello che ci impone la pulizia ed è giusto. Katia risponde che Sofì è la più ribelle e se non fosse stata immune l'avrebbe nominata sicuramente. Canale YouTube Fabio Pecce.